questo è un bel colpo e ragazzi questo è un bel colpo per il napoli si leo ostigar è ufficiale sarà un nuovo giocatore del napoli il classe 99 difensore del brighton che poi vabbè è stato in prestito al genua l'anno scorso in serie a e ci ha fatto dimostrare quello che vale ha finalmente scosso l'interesse del napoli cioè ovvero è una tentativa che andava avanti da tanto tanto tempo poi si era un po rallentata per vari vari problemi e ieri verso le 11 qualcosa è arrivato all'ufficialità io il video ve lo sto registrando alle 7 del mattino perché a quell'ora già dormivo vabbè eccetera eccetera quindi non l'ho scoperto diciamo sul tardi quando ormai ero nel mondo dei sogni e che dire io in molti secondo me questo giocatore qua lo sottovalutano nel senso ci hanno poco peso le ostigar secondo me è un ottimo difensore ripeto un classe è un classe 2000 se non sbaglio 99 scusate a 99 22 anni e alto 184 non tantissimo appunto quindi altro presso un difensore però è classico napoletani cioè è classico difensore che napoletani potrebbero definire con la cazzimma no forse anche troppa cazzimma ovvero cosa intendo è molto irruento come difensore anche nel genua spesso e volentieri ha preso dei rossi ha preso dei gialli da questo punto di vista secondo me si deve contenere ragazzo ecco perché per quanto sei un difensore devi picchiare nel senso fino a un certo punto però le qualità ci sono tantissime volte complessina ha dimostrato di essere il migliore in campo di testa nonostante essendo 1 da 4 che è un'altezza enorme presso un difensore stacca stacca e segna anche pagato 5 milioni più 4 di bonus quindi una cifra totale intorno ai 9 milioni da quello che da quello coletto transfer market lo valuta 5 milioni quindi alla fine ci sta come prezzo del cartellino perché 5 il valore del cartellino di transfer market però si sa che poi le squadre per incassare un po di più pompano il prezzo alla fine 4 di bonus non so neanche se sono facilmente raggiungibili o no questi bonus comunque per le osti garde vanno più che bene ecco 9 milioni il discorso qual è questo acquisto viene fatto in che criteri perché se tu prendi le osti garde che poi lo puoi affiancare e far crescere a un calidu culibali e auracmani il giocatore può crescere anche bene e può essere utile indispensabile per il futuro è ovvio che qualora tu mi prendi le osti garde perché ti parte culibali le osti garde non è culibali ma non sono io qua a dirvelo adesso è una cosa normale scontata cioè se napoli perde culibali ora lasciamo stare che vado alla juve perché io sinceramente kk a me la juventus piacerebbe ma sono anche realista se proprio dovesse partire culibali tutto tranne che alla juve nel senso che di laurentis ma anche forse lo stesso giocatore non vogliono la juve vorrebbero andare all'estero ok se dovesse comunque partire culibali non può le osti garde sostituire ti culibali per lo meno sicuramente non è immediato perché culibali è uno dei difensori più forti in circolazione ragazzi ci poco da dire ci poco da fare quindi io mi aspetto un le osti garde che è stato preso perché viene sostituito tuanzebe tuanzebe che è tornato adesso non mi ricordo dove l'aveva acquistato il napoli dal prestito perché non ha mai giocato tuanzebe non ha mai giocato ha fatto una partita in coppa italia con la fiorentina dove poi vlaovic l'ha anche umiliato dopo quella partita lì ragazzi spalletti non lo so non gli piacevano non l'ha considerato pronto per il napoli fate un po voi non l'ha più schierato e quindi io mi aspetto che le osti garde è stato preso per sostituire tuanzebe le osti garde farà tra virgolette se culibali rimane a napoli per il primo anno un po di panchina capisce poi come sono gli schemi del napoli eccetera eccetera e poi nel crescere con la squadra no per fare affiatamento con i compagni e tutto magari tra qualche anno potere essere anche una colonna importante di questo napoli perché ripeto le osti garde le qualità ce le ha è troppo irruento su questo deve migliorare però al coppo di testa alla velocità perché non è vero non è non è lento le osti che ragazzi ha fatto dei recuperi al giro interessanti stacca di testa quando c'è da staccare di testa in attacco si deve segnare segna per me è un giocatore importante questo del napoli non lo sottovaluterei terzo acquisto perché comunque è il loro terzo acquisto ricordiamoci che napoli va già preso il terzino sinistro terzino sinistro per era se non sbaglio adesso ho molto di memoria non ricordo come si chiama e cravastella lì come si chiama scusate io il prossimo anno se il napoli segnerà con questo giocatore non so come chiamarlo perché faccio veramente fatica col giorgiano perché ha un nome impronunciabile e questo è il terzo acquisto un acquisto che ripeto se va a sostituire tuanzebe è una sostituzione per me in meglio perché le osti gar per me più forti di tuanzebe ve lo dico già qua adesso ragazzi è ovvio che se lo prendi con l'intento di sostituire culibali allora ragazzi lì non ci siamo ecco lì non ci siamo per niente sembra che poi ora cambiamo discorso se parlo di calciomercato che te l'air sia sempre più vicino al milan e su quello ci faremo un video a parte quando sarà ufficiale colpaccio anche quello comunque del milan se dovesse verificarsi e ho detto che tipo stracoscia parte per il brand brand non ho letto dove va stracoscia comunque dovrà arrivare in inghilterra e queste qua sono le ufficialità di di queste giornate niente ragazzi io direi che il video può finire qua se vi piaciuto lasciate un bel like mi raccomando commento questi due commenti fatemi sapere un po' voi appunto cosa ne pensate di le osti gar al napoli se vi convince o non vi convince eccetera eccetera e soprattutto anche se vi fa piacere iscrivetevi al canale che è importantissimo non costa nulla e proprio per tanto basta che fate clic su iscriviti e se siete iscritti senza costi non mi rispetto casino e se lo fate vi ringrazio di cuore con i video con i vostri mi piace iscrivete anche loro e altrimenti avevo notifiche così non perdervi i prossimi video posta anche sotto link in istituzione per parte di questo channel che mi ha chiesto bella